Ciao a tutti e bentornati sul mio canale! Nonostante io qui pubblichi principalmente cover o canzoni originali, ogni tanto vi metto anche qualche video diverso e quello di oggi sarà appunto uno di questi. Nello specifico vi farò vedere qualcosa che non vi avevo ancora mai mostrato, ovvero i miei disegni. Non sono affatto una professionista e sinceramente non aspettatevi uno di quei video in cui oh mio Dio wow questa persona era bravissima a disegnare e non ce l'ha mai fatto sapere, cioè no. Semplicemente penso di cavicchiarmela e disegnare in realtà mi rilassa e mi diverte tantissimo e penso che questi siano già due ottimi motivi per farlo. Eccoci quindi in questo secondo video dedicato alla mia inktober. Vi ricordo che se vi siete persi la prima parte la potete trovare cliccando il link qui in alto alla destra del video oppure nella descrizione. Ora riprendiamo a guardare i disegni ripartendo dal giorno 17. Il tema era ornament, ordamento, e come vi raccontavo nell'altro video arrivata a questo punto della challenge avevo da poco cominciato a inserire gli acquarelli nei disegni e avevo il desiderio di fare qualche effetto un po' più carino e quindi appena ho letto la traccia mi è venuto in mente di fare questa collana con la pietra preziosa e il colore un po' schizzato qua e là. Il tema del giorno 18 invece era misfit, ovvero disadattato. Ci ho messo un bel po' per farmi venire in mente un'idea che mi piacesse. Ho cercato su Instagram i disegni delle altre persone che facevano l'inktober ma ovviamente non avevo intenzione di ricopiare il disegno di qualcun altro. Alla fine mi sono venuti in mente questi passerotti che discriminano quello con i colori diversi che poi onestamente non penso che esista in natura un passerotto verde ma il senso del disegno suppongo sia proprio lì. Comunque vedere questa immagine mi fa sempre intenerire perché mi dispiace troppo per quel passerottino tutto solo. L'ultimo disegno della pagina ha invece il tema sling, ovvero fionda. Con una traccia così chiara non avrei dovuto avere molte difficoltà e infatti sapevo fin da subito che volevo fare una fionda che lanciasse però qualcosa di non convenzionale. Ci ho messo comunque un po' a decidermi per le stelle che dal vivo in realtà sono molto più carine perché ho usato gli acquarelli glitterati per colorarle. Sono troppo belli quegli acquarelli, io veramente li adoro. Arriviamo ora al giorno 20. Devo ammettere che da questa pagina comincia un periodo un po' difficile per la mia Inktober, durato circa una settimana. Rimanevo spesso indietro con i giorni, la realizzazione dei disegni era quindi più frettolosa e spesso il risultato non corrispondeva affatto a ciò che avevo in mente. Alcuni di questi disegni quindi non mi piacciono molto come nel caso di questo giorno, altri però si salvano comunque. Il tema era thread, scritto senza H che quindi vuol dire camminare e non filo e questa cosa la specifico perché all'inizio stavo sbagliando ma per fortuna ho controllato sul vocabolario in tempo. Boh, ditemi voi che ne pensate di questo disegno. Dovrebbe rappresentare delle orme sulla neve di notte dove ho appositamente invertito i colori però pensavo che sarebbe venuto più carino. Del giorno 21 invece mi piace molto l'idea della valigia con i ricordi, i sogni e le nostre cose preferite. Questo infatti è stato il modo in cui ho voluto rappresentare il tema treasure, tesoro. Anche il disegno è molto carino secondo me e vi confesso che ci ho messo i secoli per far venire dritta in prospettiva la valigia. Andiamo quindi avanti al giorno 22 il cui tema era ghost, fantasma come si può benissimo intuire dal disegno. Continuo ad avere una grande battaglia interiore circa i miei sentimenti riguardo ai disegni più cartunosi di questa Inktober quindi non mi pronuncio. Mi piace però molto la campitura di fondo dietro e l'idea del fantasmino anzi, fantasmina freddolosa. Il tema del ventitresimo giorno invece era ancient, antico. Se prima ho detto che mi ero impazzita per fare la prospettiva della valigia beh, in questo caso non parliamone proprio. Ho ridisegnato queste linee così tante volte che ho perso il conto e non sono nemmeno sicura che nel modo in cui stanno ora hanno senso. Però il disegno mi piace veramente tanto. Cambiando pagina arriviamo a un altro disegno che proprio non mi va giù. Il tema era dizzy, ovvero stordito. Ho subito avuto l'idea della terra con le vertigini il che doveva risultare carino ma il modo in cui mi è venuto il disegno proprio non mi piace. A questo punto della challenge ho avuto un vero e proprio periodo di crisi. Sempre più disegni non mi soddisfacevano il tempo era sempre di meno mi ero malata ma uscivo comunque a causa di vari impegni e quindi per alcuni giorni non ho più disegnato. Dopo un pochino però ho iniziato a pensare che sarebbe stato un peccato fermarmi che avevo fatto il più della challenge e che all'inizio del mese il non essermi arresa aveva dato i suoi frutti e quindi mi ci sono rimessa di punta con spirito rinnovato. Mi sono accorta che lo stile troppo cartunoso non mi soddisfaceva quasi mai e quindi mi sono riproposta di evitare lo più possibile e mi sono messa all'opera per recuperare i giorni in tempo. Vi faccio uno spoiler ce l'ho fatta e ho finito precisa precisa per il 31. Eccoci quindi al giorno 25 del quale sono rimasta molto ma molto soddisfatta e questo mi ha caricato ancora di più e mi ha fatto sentire di aver fatto la scelta giusta nel non abbandonare tutto. Il tema era tasty ovvero gustoso ma non volevo disegnare cibo e quindi ho pensato alle api e ai fiori e penso che questo sia comunque un modo carino di rendere l'idea del tema. Arriviamo ora a un'altra pagina che mi piace veramente tanto soprattutto per questo disegno del giorno 26 che aveva come tema dark ovvero scuro, buio. Ho voluto quindi realizzare questo paesaggio notturno con un lampione che illumina solo un piccolo tratto di strada. Come vi avevo detto nello scorso video una cosa che mi piace tanto del linktober e fare le campiture quindi potete immaginare come mi sia divertita qui. Inoltre mi piace il fatto che il paesaggio non abbia contorni netti su tutti i lati come invece avevo fatto fino a quel momento. Il tema del 27esimo giorno invece era coat ovvero cappotto. In questi giorni io sono in pieno mood autunnale e quindi ho subito pensato a questa ragazza con un manto di foglie secche. Adoro il colore di cui mi è venuto appunto questo mantello ma non vi dico che fatica a disegnare ogni singola foglia. Ci ho messo proprio tanto però secondo me ne è valsa la pena. Ci stiamo avvicinando alla fine del video infatti questa è la penultima pagina del linktober. Continuiamo quindi con il giorno 28 il cui tema era ride che vuol dire cavalcare ma anche guidare nel caso di moto, motociclette e cose simili. Io comunque una moto non la volevo fare e dopo un po' di riflessione mi è venuto in mente questo skateboard motorizzato che al posto dello smog rilascia dietro di sé un bell'arcobaleno. Stavo per ricascare il cartunoso ma il disegno comunque non mi dispiace troppo. Il tema injured ovvero ferito del 29esimo giorno è stato un altro per il quale ho dovuto pensare un bel po'. Alla fine ho voluto trasferire su carta una versione ambientalista del tema. Io sinceramente non sono sicura se si capisce che cosa ho disegnato. dovrebbero essere dei tronchi d'alberi tagliati come rappresentazione della natura ferita. Per questo trentesimo giorno invece mi è venuto subito in mente che cosa disegnare. Il tema era catch ovvero prendere, catturare e mi è venuta subito in mente l'idea di questa fatina in un'ampolla. In teoria doveva essere catturata da un bimbo ma disegnarlo sarebbe diventato troppo complicato quindi ho fatto solo le mani che tengono l'ampolla che messe così tutte scure sono un po' inquietanti credo però nel complesso secondo me il disegno non è male. Siamo infine arrivati all'ultimo giorno e all'ultimissimo disegno. Il tema era ripe, maturo e quindi ho deciso di fare questo cesto di frutta. L'ho finito di disegnare proprio la sera del 31. La frutta l'ho colorata con gli acquarelli e nell'insieme sono contenta di come è venuto anche se questa frutta sta messa sul cesso in modo un pochino innaturale. La soddisfazione comunque che ho provato nel concludere il disegno e con esso la challenge è stata immensa. Siamo arrivati anche alla fine di questo secondo video io vi ringrazio tantissimo per aver guardato fino a qui e vi ricordo che se volete potete scrivermi nei commenti qual è il vostro disegno preferito. Inoltre se volete anche commentare dandomi qualche consiglio sul disegno sarebbe estremamente utile per me. Insomma, assolutamente sentitevi liberi di scrivermi quello che volete qua sotto. Inoltre fatemi sapere anche se volete vedere altri video di questo tipo in futuro perché no potrei anche decidere magari di riproporre il tema del disegno sul canale. Inoltre sempre riguardo al canale volevo farvi una piccola comunicazione fino a questo momento da quando ho aperto il canale ho sempre messo i video di martedì perché era un giorno che per me era comodo solo che ultimamente mi sono cambiati gli impegni insomma è normale che col tempo uno deve fare cose diverse e quindi nello specifico ultimamente martedì decisamente non è più comodo e quindi pensavo di spostare il giorno in cui caricate i video a venerdì. Ho scritto anche a voi su Instagram e su Facebook e anche voi mi avete consigliato il venerdì come il giorno in cui anche voi siete più comodi quindi da ora in avanti aspettatevi appunto i video in quest'altro giorno. Vi metto di nuovo qua sotto come ho fatto nello scorso video il mio account Instagram così se volete potete seguirmi anche lì potete vedere dei progetti in anticipo oppure insomma se io ho dei dubbi e vi voglio interpellare lì nelle storie vi scrivo quindi assolutamente in caso considerate di seguirmi anche lì e detto questo noi ci vediamo presto prestissimo nel prossimo video. Tschüss!